Il teatro Verdi di Terni vivrà un nuovo splendore e avrà una nuova veste prima del previsto. Ci sono interessanti novità infatti per il progetto del nuovo teatro che sono state presentate dall'architetto Marcello Gagliotto nel corso di una conferenza stampa. Lo studio Ama, vincitore del concorso che era stato indetto per dare un nuovo volto al teatro, ha infatti concluso e consegnato il progetto architettonico, ora all'esame della sovrintendenza e entro pochi giorni, come da contratto, consegnerà l'intero progetto definitivo. Il sindaco Leonardo Latini ha spiegato che si tratta di un progetto approfondito e arricchito rispetto all'idea illustrata in settembre, ma la novità più consistente riguarda l'organizzazione delle fasi costruttive. In seguito ad un finanziamento di 2 milioni e 300 mila euro di recente deliberato dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione Carit, il Comune di Terni sarà in grado di anticipare al primo stralcio anche la costruzione dell'involcro del nuovo teatro. L'assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati ha aggiunto che sulla base di una brillante soluzione ideata dai progettisti, la parte posteriore del teatro, quella sul Largo Sant'Agape, dove sorgerà poi la nuova torrescenica, potrà essere allestita come piazza urbana provvisoria con un arredo speciale e con alcune particolarità, tra cui l'inserimento nella facciata posteriore del nuovo involucro del teatro di una grande vetrata, anch'essa provvisoria, che consentirà ai cittadini e a tutti coloro che transiteranno o sosteranno nella piazza di seguire i lavori all'interno del teatro. La seconda novità riguarda la realizzazione della stessa piazza dell'ingresso per il ridotto, anche in questo caso con un allestimento speciale. Il nuovo Largo Sant'Agape nel retro del teatro sarà così immediatamente riqualificato e potrà essere vissuto dai cittadini con nuove funzioni anche come spazio per eventi.